Io il 31 dicembre 2015, siccome non so mai cosa fare, quest'anno faccio una cosa diversa, bellissima. Vado a vedere Toccate Fuga al Teatro San Babila. Ma sai che è una fantastica idea, è un modo diverso per fare il Capodanno. Vengo anch'io. Bene. Scusate, ma ci lasciate a casa, vengo anche io. Sì, da San Babila devo venire. Toccate Fuga a San Babila, ok? E va bene, mi toccherà di sdire di viaggio alle Bananas, ma ci sarò solo se porterete un buonissimo champagne con tante bollicine e tante risate. E io vi sono piccolino, posso venire anch'io. Sì, piccolo. 18,30 e... 22. Fantastico. Tanto San Babila, Toccate Fuga. 22 così piccolo. Vi aspettiamo per una volta.